La sicurezza stradale e i giovani è stato il tema della tavola rotonda svoltasi al Teatro Regina Margherita, un'iniziativa inserita tra le manifestazioni collaterali della 59esima edizione della Coppa Nissena. Tra i relatori dell'incontro moderato dal noto presentatore Pippo Baudo, il dirigente della Polizia stradale di Caltanissetta, Maria Grazia Milli. Io sostengo che la responsabilità sia anche dovuta agli adulti, molti adulti sono spericolati, molti adulti bevono, molti adulti non fanno l'uso dei sistemi di sicurezza e quindi direi che è un problema globale, che nel nostro paese è molto sentito perché noi siamo dei cittadini non cittadini e non curiamo nemmeno la nostra salute, la nostra integrità e non ce ne frega niente nemmeno nell'integrità del prossimo. Sicuramente il decalogo cosiddetto dell'automobilista, guidare quando si guidano veicoli a due ruote con il casco in testa che deve essere omologato perché altrimenti se non è omologato o non ben allacciato equivale a non averlo, moderare la velocità, guidare in condizioni psicofisiche assolutamente normali, quindi zero alcol, ricordiamo zero alcol assoluto, oltre quindi inferiore allo 0,50 sia per i neopatentati che per i conducenti e tutti gli adibiti al trasporto pubblico. Poi naturalmente una sana dormita fa molto bene, non eccedere con il caffè perché si possono aumentare diciamo le funzioni psicologiche normali quando siamo in eccesso, guidiamo riposati, informiamoci sempre e soprattutto delle condizioni della strada che dobbiamo attraversare. Qual è la situazione stradale di Caltanissetta e provincia come incidenti? Non è altissima, non è d'allarme ma comunque si può ancora migliorare.